Non si vede niente. Willow! Dove sei? Mi senti? Di qualcosa! Dove sei? Non sbaglio mai! Cosa stai facendo? Più veloce! Più veloce! Ho usato l'ultimo degli Ieti come slettino. Chi altro lo fa? C'è un'oscurità che si agita. Un'oscurità che minaccia l'intero Freljord. No dai! Volante! Un'oscurità che si agita.